Sono 20.956 i nuclei familiari del Friuli Venezia Giulia che al 6 gennaio scorso hanno presentato una domanda di reddito o di pensione di cittadinanza all'Inps. Il 59,8% delle domande sono state accolte. In Italia nei primi dieci mesi di applicazione della misura le domande presentate sono state complessivamente 1.600.000. Nello specifico, sottolinea il ricercatore Alessandro russo dell'IRES Friuli Venezia Giulia. Alle 20.956 domande vanno sottrate 1.011 richieste effettuate decadute per un totale di 11.519 nuclei beneficiari e 21.605 persone interessate. Le rimanenti domande rileva la ricerca o sono ancora in fase di esame oppure sono state respinte o cancellate. In Friuli Venezia Giulia, prosegue lo studio, il 38,1% di tutti i nuclei beneficiari risiede nella provincia di Udine. Pordenone è la provincia italiana con la percentuale più elevata di domande respinte o cancellate pari al 43,2%. L'importo medio mensile erogato dall'istituzione della prestazione ad oggi è pari a 493 euro a livello nazionale, un ammontare che varia sensibilmente in funzione della misura percepita. In Friuli Venezia Giulia, aggiunge russo, la media è decisamente più bassa e pari a 371 euro, 411 euro per il reddito di cittadinanza e 191 euro per la pensione di cittadinanza. Moltiplicando questi valori per 12 mensilità, conclude la ricerca, si ottiene un costo complessivo della misura che corrisponde a quasi 6 miliardi e 200 milioni a livello nazionale e a oltre 51 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia.